Questa frase, ogni centesimo conta il giusto. Ora, questa frase sembrerebbe quella detta un po' da zio paperone o comunque da un tirchiaccio. Io non voglio offendere nessuno, è ok, quindi spero che nessuno si senta, ma io non vi conosco personalmente, quindi non so come siete, però il discorso è questo. Detto così potrebbe sembrare che io sia un tirchio. In realtà io penso che ogni piccolo centesimo vada poi a costruire un qualcosa. Ogni singolo, come per citare un cartone animato, per esempio Mulan, film della Disney, ogni singolo chicco di riso può sbilanciare la bilancia. È vero, è vero perché io quando, non voglio neanche sembrarvi troppo antipatico quando faccio questi confronti tra i vari paesi, però quando ero in Italia, in Italia si usa molto il contante. Quindi io prelevavo, prelevi, quando sei in Italia prelevi, vai a prendere un caffè al bar, paghi un euro, un euro e venti, fai colazione, un euro e cinquanta, un euro e quaranta, quello che costa, e ovviamente hai delle monete, ok? Oppure vai al supermercato, ti vengono fuori quei conti con delle cifre, per esempio, 60 euro, virgola 95, virgola 98 e ti ridanno i centesimi da due euro. Io penso di averla messa online sul mio profilo di Instagram, ma io ho iniziato, qualche mese fa, qualche mese giù, l'estate scorsa, a riprendere un'abitudine che avevo un po' lasciato. Un'abitudine che avevo un po' lasciato perché io quando ho smesso di fumare la terza volta, praticamente, la sera arrivavo a casa e tutti i soldi che avevo in tasca a livello di monetine le mettevo in un barattolo. Quest'estate ho continuato a fare questa cosa qui, quindi ho iniziato a dire, bene, vado a prendere tutte le monete e le metto nel barattolo, ok? Quindi arrivo a casa la sera, qualsiasi sia il valore delle monete che ho nel portafoglio, a volte ci mettevo anche 7, anche 10 euro, perché magari non ce ne rendiamo conto, ma le monete da 2 euro poi alla fine sommate vanno a creare comunque un grosso valore, le prendo e le metto di dentro. Alla fine del giro, prima di partire per la Danimarca, ho svuotato questo barattolo e ho iniziato a contare le messe in banca e ho tirato fuori 700 euro. 700 euro che io praticamente potevo avere già speso in quasi sei mesi, in tre mesi, quanto il tempo di fare questa cosa qui, ma questo mi fa capire che se io metto da parte le monete, alla fine dell'anno posso avere un'entrata che è comunque qualcosa di positivo in più che magari non ho speso involontariamente, ma che posso avere in tasca, con la quale volendo ci posso pagare il commercialista oppure ci posso fare un regalo o andare volendo anche non dico solo a cena fuori, ma volendo posso andare a fare anche un piccolo weekend fuori insieme alla famiglia. Quindi sono queste le cose che io dico che contano, cioè lo stare attenti su come si vanno a buttare i soldi in alcune situazioni. Qua mi risulta un po' più difficile, perché mi dico mi risulta più difficile? Perché qua utilizzano tutti la carta di credito o il bancomat e quando vai al supermercato addirittura hanno questo sistema bellissimo che quando per esempio spendi 20,95, diventano 21 per approssimazione, quindi un minimo ci rimani male, ok? Però non lo vedi, non lo vedi perché non dando il contante sostanzialmente non hai questa possibilità qui. Però loro hanno, perché comunque mi fa piacere farlo, è una cosa che tanto se no andrebbe persa, l'ho voluta tenere questo aspetto, hanno le macchinette per ridare le bottiglie vuote, per ridare i vuoti. In volta che dai vuoti ti ridano indietro un certo valore. consegnando, per esempio, 9 bottiglie, 10 bottiglie, ti ridanno indietro tipo 20 corone, che te le danno ovviamente in monete, perché 20 corone è una monetina. 20 corone sarebbero all'incirca, sono una bischerata, sono circa 2,80 euro, ok? Quindi uno prende queste 20 corone e volendo le riutilizzi per altre cose, ci vai a prendere anche un caffè, ok? Quindi è un modo per far girare comunque i soldi qui. Il naturale è che quindi quando uno ha questa mentalità, ha anche la possibilità, volendo, uno può dire, magari invece di metterci centesimi, sai che c'è? C'è un sistema che è quello che utilizzano molto le casalinghe inglesi, che è quello delle 53, 57, mi sembra 53 settimane. Cioè ogni settimana mettono da parte un valore sommandolo di 1. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa settimana loro mettono da parte un dollaro, un euro, ok? La settimana dopo mettono da parte 2 euro, quella dopo ancora 3, quella dopo 4. Quindi alla fine del mese te vai a mettere da parte 10 euro, ok? In mese successivo diventano 11, 12, 13, cioè sempre così, aumentando di settimana in settimana. E alla fine dell'anno riesci a mettere da parte circa 1.500 o 2.000 euro. Se uno riuscisse ad avere costanza nel dire io metto da parte 10 euro, 5 euro tutti i mesi o anche tutte le settimane, questo dipende da quanto volete voi, ma la logica vorrebbe che quando uno fa un lavoro prenda una certa cifra e dice questa la metto lì e non la tocco, riuscireste poi ad avere dei soldi in più che potete gestire per fare determinate cose, anche per colmare magari dei buchi che uno può aver accumulato negli anni, ok? Perché non tutti siamo dei santi, non tutti magari riusciamo, che ne so, a pagare una bolletta in tempo e di conseguenza magari ci viene ritardata, ci viene richiesta, oppure un F24 magari uno non lo paga e dopo due anni vengono richiesti i soldi di quell'F24, allora uno lo dirà azione e cerca di pagarlo in quel modo lì. Questo io intendo dire che ogni centesimo conta, quindi bisogna stare un pochino attenti senza avere quella avidità, ma razionalizzando, cercando di capire che magari una cosa comprata così perché ho spesa così o buttato via dei soldi in questo modo, magari in quel periodo non è il caso, quindi magari accantonare per mirare un domani, questo è un po' il senso di questa frase. Grazie. 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 Grazie.